Nuovo record di contagiati totali in città, Civitavecchia supera quota 400 e di conseguenza il precedente tetto di 369 del 3 gennaio 2021. Nelle ultime 24 ore, 83 positivi e 3 decessi. Sono quattro le inchieste della procura legate al blitz di giovedì scorso in comune, dal concorsone alle luminarie, passando per un alloggio Ater e lo spostamento degli uffici del centro per l'impiego. In arrivo a Palazzo del Pincio, un milione di euro dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, necessari per i servizi essenziali di chiare sindaco tedesco. Nasce Calypso, la nuova compagnia di Rifline che collegherà il porto di Civitavecchia con la Cina. Avrà sede a Genova e le navi faranno scala anche a Salerno e Ravenna. Quello che si concluderà tra qualche giorno è stato un anno di successi per lo sport locale, tanti risultati raggiunti sia a livello nazionale che internazionale dagli atleti locali. Iniziamo subito questa pagina con gli aggiornamenti sul Covid-19, mai così tanti positivi a Civitavecchia. A quasi due anni dal giorno in cui si registrò il primo contagiato da Covid-19 a Civitavecchia, ieri si è registrato un nuovo record negativo per la nostra città. Sono ben 380 gli attuali positivi sul territorio comunale, 11 in più dei 369 che si erano raggiunti il 13 gennaio del 2021, data nella quale era iniziata una nuova discesa. Vediamo il servizio. Mai così tanti positivi a Civitavecchia dall'inizio della pandemia da Covid-19, giunta ufficialmente in Italia con il caso zero di Codogno del 21 febbraio 2020. In realtà, proprio nella nostra città, arrivarono i primi due cittadini con sospetto virus, la coppia di coniugi cinesi sbarcati al porto di Civitavecchia e immediatamente messi in quarantena alla Cecchignola e poi trasferiti allo Spallanzani per le cure del caso. Bene, a quasi due anni dal giorno in cui si registrò il primo contagiato da Covid-19 a Civitavecchia, datato 11 marzo 2020, la nostra città ha raggiunto purtroppo un nuovo record. Sono 431 gli attuali positivi sul territorio comunale, 62 in più dei 369 che si erano raggiunti il 3 gennaio del 2021, data nella quale era iniziata una nuova discesa delle tante ondate che la nostra città, così come quasi tutti i paesi del mondo, hanno affrontato e continuano ad affrontare. Quella in corso è solamente l'ultima, legata alla nuova variante del virus, la Omicron, a quanto sembra più contagiosa rispetto a quelle che si sono succedute finora, ma meno aggressiva. Ad annullare quasi totalmente gli effetti negativi del Covid-19 e anche l'effetto dei vaccini, che evitano buona parte dei ricoveri nelle terapie intensive e soprattutto tanti morti. Ma i contagi ci sono, e anche tanti. Ieri si è registrata una vera e propria invasione al drive-in di Largo della Pace da parte dei cittadini del territorio, ma anche di fuori regione, in cerca di un tampone. E lo stesso è stato per le tante farmacie che mettono a disposizione dei propri clienti il servizio dei test rapidi. Come detto, si è piazzato un nuovo record, quello dei 431 attuali positivi mai raggiunto da inizio pandemia. Numeri che si ripercuotono anche sul reparto Covid del San Paolo, che resta al completo con i 10 posti del primo step già tutti occupati. Si aspetta l'indicazione della Regione Lazio per aumentare le unità disponibili all'ospedale cittadino, come annunciato dal direttore generale dell'Asla Roma 4, Cristina Matranga. Rimaniamo sullo stesso argomento. Si sapeva che quello di oggi sarebbe stato un report pesante per la nostra città, ma non si pensava che addirittura sarebbero stati raggiunti dei record dall'inizio della pandemia. Asla Roma 4, Regione Lazio, comunicano che ci sono ben 83 nuovi casi positivi, numero mai raggiunto in tutta l'emergenza Covid. Arrivano brutte notizie anche per quanto riguarda i decessi, che sono tre. Si tratta di un uomo di 86 anni e di due donne, una di 71 non vaccinata ed una di 82 anni, con malattie pregresse, tutti di civita vecchia, numeri alti anche per i guerriti, che nelle ultime 24 ore sono stati 32. CSP potenzia il servizio di esecuzione dei tamponi rapidi. Il servizio è svolto presso la farmacia Calamata, ma per particolari emergenze ci si potrà rivolgere anche alla farmacia Aurelia, a previo appuntamento. Nell'arco di pochi minuti agli utenti vengono formalmente rilasciati i risultati del test effettuato e l'eventuale Green Pass. Il prezzo, così come imposto dalla recente disciplina di settore, è pari a 15 euro per gli adulti e 8 euro per i minori. È comunque possibile acquistare pacchetti di 10 tamponi, vedendosi applicate più vantaggiose condizioni. Per i signori utenti che volessero effettuare il test in orario, giorni diversi, la farmacia ha predisposto un servizio di prenotazione al numero telefonico 0766 32 739, farmacia Calamata, oppure 0766 560176, farmacia Aurelia. Gli utenti potranno così concordare con il personale, la data e l'orario del proprio test. Il servizio di tamponi antigenici sarà disponibile anche nella giornata di venerdì 31 dicembre 2021. Per quel giorno si raccomanda la prenotazione dal momento che è prevista notevole affluenza. Quattro inchieste separate, solo quelle aperte dalla Procura della Repubblica in seguito al blitz di giovedì scorso al Comune, al centro delle indagini che hanno visto anche l'utilizzo di intercettazioni telefoniche ed ambientali, il maxi concorso di Palazzo del Pincio, le luminarie natalizie, una assegnazione di un alloggio atere, la questione dei nuovi uffici del centro per l'impiego. Vediamo il servizio. Sono quattro le inchieste avviate dalla Procura della Repubblica in seguito al blitz a Palazzo del Pincio di giovedì scorso, quando gli uomini della Polizia Giudiziaria e del Commissariato di Viale della Vittoria sono entrati in Comune ed hanno richiesto e portato via diversi documenti. I procedimenti che sono stati aperti sono relativi al maxi concorso, le luminarie natalizie che ancora sono funzionanti sul territorio comunale, una assegnazione di un alloggio atere di alcuni mesi fa e la questione dei nuovi uffici del centro per l'impiego. Per quel che riguarda il concorsone, l'obiettivo è quello di fare chiarezza su un pasticcio che appare per certi versi inspiegabile, quello relativo alla mancanza delle domande di inglese e di informatica, obbligatorie per legge e previste dal bando, nella maggior parte delle prove che si sono svolte per le diverse posizioni. Anomalie che avrebbero portato la procura a scrivere già i primi nomi sul registro degli indagati. Stando ad indiscrezioni, così come per quella per il maxi concorso del Comune, anche per l'assegnazione di un alloggio atere, l'inchiesta sarebbe partita dall'esposto di una famiglia alla quale non sarebbe stata assegnata un alloggio. La procura punta a chiarire anche sul trasferimento degli uffici del centro per l'impiego in alcuni appartamenti che si trovano nel complesso dei mulini, in seguito ad una denuncia. Infine c'è la questione delle luminarie di quest'anno, sotto la lente di ingrandimento della procura, c'è l'assegnazione dei lavori per l'installazione delle luci in tutta la città. Ma il blitz di giovedì scorso è solo l'ultimo atto messo in campo dalla procura della Repubblica di Civitavecchia con l'ausilio della polizia giudiziaria. Gli investigatori avrebbero infatti messo in atto tutta una serie di attività di indagine con tanto di intercettazioni telefoniche e ambientali. Per sostenere le casse comunali delle città portuali italiane in difficoltà dopo il blocco delle attività crocieristiche durante la crisi da Covid-19, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha deliberato un ristorio di 5 milioni. L'importante lavoro di analisi e rendicontazione svolto dall'Ufficio Ragioneria ha permesso che il Comune Civitavecchia ottenesse il 20% delle risorse complessive corrispondenti ad un milione di euro per Civitavecchia, risultato importantissimo per la nostra città di Chiara il Sindaco Ernesto Tedesco. In questo biennio di pandemia la Cassa Comunale ha registrato un pesante rallentamento delle entrate tributarie e patrimoniali che rischiava seriamente di pregiudicare l'erogazione di servizi essenziali. Sono state approvate la legge di stabilità del 2022 e la manovra del bilancio 2022-2024. Si tratta di un ammontare di oltre 3 miliardi e 570 milioni di euro per l'anno 2022, 3 miliardi e 540 milioni di euro per l'anno 2023 e 3 miliardi e 470 milioni di euro per l'anno 2024 per la parte libera. La notizia arriva da Gino De Paolis, consigliere regionale della lista civica Zingaretti. Si tratta di un lavoro che tiene conto dell'enorme impatto che ha avuto la pandemia, afferma De Paolis. Tra gli aspetti più rilevanti va segnalato che anche quest'anno le persone e le famiglie con reddito più basso saranno esentate dalle addizionali IRPEF e dunque non subiranno alcun aumento. Ritengo importante il sostegno alle reti di impresa del territorio e le risorse destinate ai comuni per la promozione e la valorizzazione turistica. Accanto a queste vi sono misure volte alla gestione delle aree naturali e portuali, protette scusate, per la tutela ambientale. I piani di zona, sostegni alle famiglie con minori, con disturbo dello spettro autistico ed interventi per la disabilità grave e gravissima. E arrivano importanti novità per il porto di Civitavei che è nata infatti Calypso, la nuova compagnia del Reef Line. La notizia coinvolge anche la nostra città che sarà collegata grazie alle due porta container Songa Città e Cap Flores alla Cina e potrebbe davvero far decollare un settore che negli ultimi mesi sembra essere comunque in risalita. È il nostro servizio, vediamo. Una nuova compagnia marittima che collegherà anche Civitavecchia con la Cina. Arrivano ottime notizie per la nostra città da parte della Reef Line Group, il network internazionale in cui ogni giorno oltre mille persone lavorano per la movimentazione delle merci da e verso qualunque paese del globo. È nata Calypso, una nuova compagnia di navigazione di proprietà proprio della Reef Line. La flotta di Calypso è al momento composta da tre navi, di cui due, cioè Songa Città e Cap Flores, entrambe con una capienza tra i 1800 e i 2000 Tehu, collegheranno i porti italiani di Civitavecchia e Salerno con quelli cinesi di Taikang e Dachan Bay. Un progetto ambizioso in cui Reef Line ha già investito oltre 25 milioni di dollari e si prepara di investirne altrettanti per il 2022. Calypso avrà sede a Genova con un capitale iniziale di 10 milioni di euro. Rispetto alle tradizionali compagnie di navigazione, spiega Francesco Isola, CEO di Reef Line, Calypso nasce con l'obiettivo di fornire quelli che potremmo definire servizi espressi alla propria clientela, con transit time ridotti in cui non sono previsti trasbordi o tappe intermedie. Per i prossimi mesi abbiamo in programma di rafforzare il nostro servizio aumentando il numero delle navi della nostra flotta, introducendo nuove scali e aumentando i Tehu di merce trasportata ad ogni viaggio. Il progetto varato dalla Reef Line, che è riuscito ad assicurare collegamenti velocissimi a costi competitivi, prende sempre più valore, punta sempre più in alto coinvolgendo ancora di più la nostra città. Una notizia questa che sembra poter far decollare nel nuovo anno il settore anche per quanto riguarda Civitavecchia. E si intensificano in queste ore che precedono alla fine dell'anno i controlli dei carabinieri volti al contrasto della detenzione della vendita illecita di materiale esplodente ai giochi pirotecnici pericolosi onde prevenire gravi incidenti. È stato denunciato in stato di libertà un trentenne già noto peraltro alle forze dell'ordine in quanto attualmente sottoposto alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari, ipotizzando per lui reati di detenzione abusiva ed omessa denuncia di materiale esplodente. I carabinieri hanno eseguito un capillare controllo dei soggetti e delle attività commerciali notorialmente dediti al possesso e alla vendita di artifici pirotecnici. Ecco allora che nella rete dei carabinieri è caduto proprio il trentenne che nel corso di una approfondita perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di circa un quintale e mezzo di cosiddetti botti senza essere peraltro in alcun modo autorizzato a detenerli né averli mai denunciati all'autorità di pubblica sicurezza. Il materiale immediatamente sequestrato è risultato comprendente svariate confezioni di detonatori, ben due batterie del tipo mortaio per razzi, anche di grandi dipensioni, diverse decine di scatole di petardi di varia forma e grammatura ed alcune bombe del peso di oltre un chilogrammo ciascuna. Tutti gli utenti della zona 1, vale a dire quelli del centro cittadino, nella giornata di venerdì dovranno anticipare l'esposizione dei contenitori dell'indifferenziata entro le 10 del mattino anziché delle ore 20. L'annuncia CSP che ricorda che la raccolta dell'indifferenziata non comporta il conferimento di carta, cartone, plastica, metallo ed organico che vanno invece conferiti negli appositi giorni di raccolta, secondo il calendario attualmente in vigore. Non sono invece previste variazioni di esposizione dei contenitori per gli utenti della zona 2. Restano confermati quindi tutti i servizi di raccolta differenziata porta a porta, ordinari presso i domicili, come da calendario vigente durante tutta la settimana delle festività. La raccolta itinerante di plastica e metalli sarà invece sospesa sabato. Gli utenti che avranno esigenza di conferire plastica e metalli potranno continuare a farlo con il porta a porta nel consueto giorno della settimana come da calendario di raccolta. Giriamo pagina dopo la pausa natalizia, torna l'appuntamento con occhio sulla città. Quest'oggi la nostra rubrica si è recata via degli agricoltori, altra zona di Civitavecchia, immersa nel degrado tra buche, marciapiedi dissestati e divisori distrutti. Guardiamo il servizio. Bene, oggi per quanto riguarda occhio sulla città le immagini ci giungono da via degli agricoltori, come potete vedere è una situazione davvero precaria, vedete il marciapiedi che è divelto in tutti i suoi componenti, chiaramente infatti vedete via degli agricoltori e queste immagini ce le ha mandate un cittadino che chiaramente stanco di questa situazione chiede a chi di dovere di riuscire a risolvere il problema che ormai si protrae da lunghissimo tempo. Ecco, questa vi ricordo è via degli agricoltori e le immagini al limite, vedete sono addirittura divelti questi componenti che servono per delimitare il passaggio dei pedoni tra le macchine e appunto il marciapiedi. Quindi è una situazione che ogni giorno si aggrava sempre di più, non soltanto sulle vie cittadine, anzi su tutte le vie cittadine e questo ricordo in particolare è via degli agricoltori, speriamo che qualcuno ascolti e intervenga. La Proloquo Cittadini informa che per le sfavorevoli condizioni meteo la rappresentazione del presepe vivente seguendo la cometa prevista per il 26 presso il sito delle terme taurine è rinviata al prossimo 6 gennaio. Restano invariati invece gli orari degli spettacoli 17.30, 18.15, 19 e l'obbligo del Green Pass. Per info e prenotazione ricordiamo il numero 338 32 79 798 ma anche su WhatsApp. Ha preso il via un nuovo percorso di PCTO, vale a dire ex alternanza scuola-lavoro realizzato e cucito su misura per le classi quinte di enogastronomia e sala dell'indirizzo alberghiero Cappannari, ormai in piena preparazione per l'esame di maturità. Si vuole creare una breccia o meglio ancora un ponte solido tra le scuole superiori e le università, ha commentato la professoressa Matteucci, ideatrice responsabile del progetto. Una strada sempre aperta in cui l'orientamento e il potenziamento delle eccellenze di recupero dei più fragili crei un pensiero scientifico semplice ma efficace. Così le classi quinte, indirizzo enogastronomia e sala, parteciperanno ad una serie di incontri teorici e pratici incentrati sui temi delle grandi fermentazioni. Al termine delle lezioni teoriche i ragazzi si cimenteranno in prima persona nella selezione e nell'allevamento dei microrganismi utili nel laboratorio di chimica delle fermentazioni insieme ai docenti e ricercatori del DBAF. Il 2021 per lo sport cittadino, quindi apriamo la pagina sportiva, è stato influenzato come tutto del resto dal Covid che ha limitato molto le attività nella prima parte dell'anno ma la nostra città è riuscita a mettersi in mostra sia a livello nazionale che internazionale coinvolgendosi atleti maschi che femmine. Ascoltiamo il nostro servizio, vediamo. Anche il 2021 è stato un anno tormentato per lo sport ma nonostante i problemi legati soprattutto al Covid, Civitavecchia ha raggiunto risultati di grande spessore a livello nazionale e internazionale. E la fine dell'anno è l'occasione ideale per scorrere le pagine di quello che è accaduto. Le Olimpiadi non sono andate benissimo per la nostra città ma i tre atleti che hanno partecipato a Tokyo 2020 hanno raggiunto lo stesso risultati favolosi. Partiamo da Mattia Camboni, vincitore dell'argento al Mondiale di Cadice a cui si aggiunge anche il secondo posto agli europei in Portogallo. Tornando alla gara in Spagna, il velista delle fiamme azzurre è riuscito a mettere al collo la medaglia grazie ad una splendida medal race in cui ha recuperato i quattro punti di svantaggio nei confronti di chi lo precedeva in graduatoria. Argento mondiale anche per Marco Lodadio che ha vinto agli anelli all'evento iridato in Giappone. Qui la situazione fu ancora più clamorosa, il ginnasta della SG ne era stato eliminato per qualche centesimo. A poche ore dalla finale la lieta notizia, ovvero che l'Azzurro era stato ripescato per la gara che attendeva da mesi, dove ha messo alle spalle mesi di sacrifici, di ore in pedane e di delusioni ed ha dato sfoggio del suo essere campione. E continuiamo con un altro partecipante alle Olimpiadi, il pallanuotista Marco Dellungo che ha fatto l'impresa con il Brescia, vincendo lo scudetto nonostante lo strapotere quindicinale della Prorecco, un tricolore cercato per tanti anni dalla calottina rossa Civitavecchiese che al termine della gara fece un annuncio clamoroso, ovvero che la sua esperienza a Brescia era terminata e sarebbe passato proprio ai rivali della Prorecco. E non dimentichiamo certamente anche il pugilato con Michael Magnesi, che si è confermato campione mondiale IBO, dei pesi superpiuma, mandando al tappeto in soli 47 secondi Boulanat davanti agli sbigottiti occhi dei telespettatori di Ray 2. Malone Wolf ha già la mente proiettata al 2022 e dalle nuove avventure negli Stati Uniti. Lo sport Civitavecchiese nel 2021 è stato anche in rosa con le vittorie di tre campionati. Meravigliosa la cavalcata della margutta Civitalad di pallavolo promossa in Serie B1 dopo una finale da applausi con un 6-0 assestato al Pomezia, dato dagli addetti ai lavori come favorito per il successo. Ma il gruppo di Pietro Grecchi invece aveva altre idee ed ha convinto tutti riguardo il progetto Civitalad. E da convincere è stato il nuovo progetto COSER, con la squadra di Daniele Lisi, parliamo ovviamente di Pallanuoto, che ha sbaragliato la concorrenza nel campionato di Serie B ed ha conquistato la promozione in A2. Un progetto innovativo, quello del club giallo-blu, tra l'arrivo di sponsor di grandissimo spessore ed il ritorno in gruppo di storiche figure della Pallanuoto Civitavecchiese. E chiudiamo con un'altra promozione, ancora nella pallavolo, con Alessia Arciprete, che ha ottenuto la promozione in Serie A1 con la Roma Volley. Un trionfo ed un primo posto da protagonista per la schiacciatrice cresciuta Lasp, che ha saputo tirare fuori gli artigli anche dopo un infortunio che l'aveva bloccata per qualche settimana. Continuano le notizie negative per l'impiantistica cittadina. Questa volta tocca la piscina comunale di Via Maratona, dove è crollata una piccola parte del soffitto dell'impianto, proprio nella parte in cui si trova la vasca da 25 metri. Stamattina ho parlato con il sindaco tedesco, afferma il presidente della Cosa al Nuoto Antonio Parisi. E presto ci sarà una visita del delegato allo sport, Matteo Iacomelli, e del comune. Per fortuna è accaduto quanto non c'era nessuno. Parisi segnala anche che si tratta di un problema già a conoscenza delle sue società. Avevamo già preventivato dei lavori a causa di questa situazione, spiega Parisi, e ci stavamo già muovendo. La piscina resterà chiusa almeno per un mese. Veniamo ora al calcio. Movimento in uscita per il Civitavecchio. Alessandro Franceschi lascia il club nero azzurro e va a giocare in Toscana, più precisamente al Fonte Blanda, squadra di prima categoria, che si trova a meno uno dalla vetta nel proprio girone. Una decisione, quella dell'attaccante, classe 1999, legata anche al poco spazio che ha trovato nella prima parte di stagione. Intanto la squadra di Massimo Castagnari ha ripreso a lavorare in vista del big match di giovedì prossimo, quando al Tabagnini arriverà la visita della capolista Pomezia. Passiamo alla palla a mano. Esordio convincente per Anna Giulia Francesconi con la maglia del Pontinia. Tra l'altro il gioia ha iniziato al meglio la sua avventura, prevalendo nel derby Civitavecchise con Martina Crosa, asso dell'Ariosto Ferrara. Le pontine hanno sconfitto tra le mure antiche, amiche scusate, le emiliane per 34 a 30 in un match quasi sempre nelle mani delle padrone di casa, anche se le estensi hanno rischiato di rimettersi in linea di galleggiamento a metà del secondo tempo. Sette i gol firmati da Francesconi, che si è fatta subito conoscere dal suo nuovo pubblico, dopo la breve esperienza di Salerno. Tre invece i timbri di Crosta, che ha provato più volte a dare la scossa, anche con tiri e penetrazioni da 6 metri. In classifica il Pontinia di Francesconi è quarto e punta a superare il Mestrino terzo, mentre il Ferrara di Crosta è in piena lotta a salvezza, essendo quarto ultimo. Veniamo ora ad una segnalazione che ci arriva da Viale Baccelli. Per la precisione dal Civico 94, un nostro telespettatore ci ha contattato per segnalare la presenza di due buche che sarebbero decisamente pericolose per chi transita nel tratto. Come di consueto giriamo la segnalazione agli organi competenti. Bene, termina qui con questa notizia, questa edizione del TRC Giornale Serale. Prima di salutarvi, come sempre, vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri canali social Facebook, YouTube, Instagram, oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it Grazie per l'attenzione, per averci come sempre seguito e naturalmente vi ricordo i nostri prossimi appuntamenti a risentirci nel telegiornale di domani. Buona serata. Grazie per la visione!